Lo Yen è la valuta più forte del momento e ci ha dato infatti lo spunto per valutare un'operazione di trading molto molto interessante. Pensa che lo Yen ha recuperato tra il 6 e il 9% nel giro di sole tre settimane nei confronto di tutte le altre valute mondiali, invertendo così totalmente la rotta del suo trend fortemente ribassista degli ultimi anni. Ma perché? Cosa sta succedendo e soprattutto come facciamo a sapere che lo Yen è la valuta più forte del momento? Ti ricordo brevemente che il contenuto di questo video non rappresenta in alcun modo consigli finanziari e che i ragionamenti presentati nel video sono semplicemente nostre opinioni personali. Dal punto di vista macroeconomico la banca centrale giapponese ovviamente non è più un mistero che sta intervenendo sul mercato valutario, sta comprando Yen a discapito del dollaro americano e addirittura vedendo anche come si è mossa per quanto riguarda i treasury stranieri sta effettivamente vendendo treasury stranieri in favore del rafforzamento della propria moneta e della svalutazione del dollaro. Fate attenzione perché non è soltanto una rivalutazione dello Yen ma è proprio una svalutazione del dollaro perché se io, Giappone, vendo titoli di Stato americani sto effettivamente vendendo dollari e comprando Yen valuta locale. Quindi se la banca centrale giapponesa fa questo che è la banca principale che detiene più treasury americani al mondo, ovviamente dopo gli stessi Stati Uniti d'America, se dall'altro interviene direttamente sul mercato del Forex intervenendo proprio come banca centrale e tra l'altro l'ha fatto in maniera oculata proprio quando è uscito lo scorso dato dell'inflazione americano inferiore rispetto alle attese. Da quando è intervenuto la banca centrale giapponese era più o meno da qui, 159,1, 159,3, acquistando decine di miliardi di Yen a discapito di USD e da qui effettivamente poi ha avuto un trend ampiamente ribassista, parliamo di un meno 4,5% nei conflutti del dollaro. Quindi Yen attualmente, e non lo dico io, lo dice anche l'indicatore, eccolo qui, è la valuta più forte al momento e lo vedete qui da 4 rettangolini in verde addirittura con uno score di 300 punti rispetto alla seconda valuta più forte che addirittura è il CHF con soli 140 punti di score. A breve scoprirai come è possibile prevedere in anticipo come si muovono gli istituzionali e i fondi di investimento, in pratica i grossi squali di Wall Street che muovono il mercato. Questa informazione è possibile conoscerla tramite lo studio del CotReport, uno strumento ufficiale rilasciato dalla CFTC Commission. Abbiamo infatti subito notato che c'era qualcosa di diverso nei posizionamenti proprio degli istituzionali contro lo Yen giapponese. E guardiamo un po' che cosa sta succedendo sul CotReport. Nelle ultime due settimane è stato il primo vero aumento da dicembre 2023 delle posizioni nette short sul dollaro americano nei conflutti dello Yen. Sul forecast e sul CotReport quello che viene rilasciato dalla CFTC Commission è il report sullo Yen. Che cosa significa? Che il report che viene rilasciato è delle posizioni speculative sullo Yen nei confronti sempre del dollaro americano. Quindi quello che va valutato è Yen-USD. Ovviamente sarebbe un po' difficile andare a fare questo tipo di ragionamento e quindi viene fatto il ragionamento inverso. Infatti lo vedete qui, il forecaster dice reversed. Quindi che cosa significa? Che le posizioni long che vedete sul forecaster, perché sono posizioni long sullo Yen, significa che invece sono posizioni short su USD, quindi sul dollaro americano. Infatti non è un caso che l'histogramma qui che vede sul grafico è in basso, perché appunto rappresenta USD Yen, quindi posizioni ribassiste sul dollaro americano, che però dati reali sono posizioni long sullo Yen, non short sul dollaro americano. Siamo passati praticamente dal meno 8,7% a circa un meno 12%, quindi abbiamo praticamente fatto un più 50% di posizionamenti long sullo Yen. Ovviamente non sono pochi, o meglio, sono pochi in questo contesto, ma non sono pochi se li paragoniamo agli ultimi due mesi. Il cambiamento soprattutto realzista degli ultimi due mesi che addirittura non vedevamo dal dicembre 2023. Quindi effettivamente è un'anomalia e l'ultima volta che abbiamo visto una cosa del genere è stato proprio a cavallo di fine novembre. Quindi quando lo Yen era a 147, poi boom, ha fatto una bella dicesa a 141. Vediamo se ancora una volta sarà così. Io penso proprio di sì, perché se iniziano a muoversi gli istituzionali verso questa direzionalità qua, quando possiamo dire a livello storico più short di questo è molto difficile che siano andati a fine, quindi eravamo veramente anche in un unicum storico. Anche qui però facciamo attenzione perché è un primo segnale, lo vedete anche dalla net position, come a livello storico non siamo mai andati oltre questo livello, quindi avevamo già raggiunto una soglia critica al millimetro. Appena abbiamo raggiunto la soglia critica, boom, siamo poi cascati perché ovviamente iniziano a chiudere le posizioni shorts lo Yen aprono le posizioni long e adesso però c'è un bel margine di discesa perché abbiamo tutta questa discesa qui fino a quanto minima raggiungeremo una soglia neutrale che poi a livello storico è la soglia raggiunta negli ultimi anni. Quindi abbiamo una bella discesa addirittura l'ultima volta che hanno iniziato ad aprire posizioni long a discapito di quelle shorts siamo passati dal più 30% a un meno 11%, quindi abbiamo un 40% di posizionamenti dalla nostra, passando a livello di prezzo da 150 circa a 128, quindi una bella differenza di oltre il 20% di movimento che ovviamente poco non è assolutamente, anche perché poi quando avvengono queste cose qua, soprattutto quando siamo sui massimi storici, ovviamente questo non è un massimo storico però giusto per farvi capire, la discesa può essere veramente molto molto rapida, molto repentina, molto interessante secondo me la Yen sarà la valuta più interessante del 2024 e soprattutto anche del 2025 quando poi le cose effettivamente si andranno ad acquire. Ovviamente l'altra cosa che dobbiamo attendere sono sempre i fondi di investimento perché poi sono quelli che muovono la parte un po' più speculativa come abbiamo visto anche dall'altra parte, però facciamo attenzione perché non è un caso che lo Yen abbia preso il 4-5% nei confronti del dollaro americano perché se andiamo a vedere gli short effettivamente sono stati tagliati, sono stati tagliati un po' di short per quanto riguarda questo cambio di valutario qui anche per i leverage funds, quindi anche per i fondi di investimento, quindi abbiamo perso circa un quasi 7% di posizionamenti, ovviamente pochi non sono rispetto anche a quello che abbiamo visto nell'ultimo mese, quindi anche i fondi di investimento si stanno muovendo nella stessa direzione degli istituzionali e questo ovviamente ci fa piacere perché crea una convergenza che cerchiamo sempre. I capitali istituzionali soprattutto nel forex si muovono soltanto per una ragione, sostanzialmente a causa dei cambiamenti macroeconomici di politiche monetarie tra le varie banche centrali, infatti a breve spiegheremo che cosa c'è dietro questo cambiamento e che cosa sta decidendo di fare la Bank of Japan per preservare la propria valuta. Dietro questa cosa qui c'è anche un'anticipazione di decisione di alzare i tassi di interesse per quanto riguarda la banca centrale giapponese stanno lasciando perdere il carry trading, ossia quello di prendere in prestito dal Giappone a praticamente costo zero perché lì i tassi di interesse sono praticamente quasi nulli, poco sopra lo 0%, prendere yen giapponesi e magari comprare titoli di stato americani che ti danno invece il 5-5,5%. Nel momento in cui questa cosa qua si inverte, ovviamente si inverte anche la propensione e la volontà di detenere dollari nei confronti invece di yen. Quindi semplicemente quello che sta facendo il mercato, soprattutto quelli che stanno facendo gli istituzionali, è valutare uno yen come in forte ripresa e in forte rafforzamento. Quindi andiamoci a prendere anche un po' di target. Il problema dove sta è che dal punto di vista tecnico è difficile andare a posizionarsi dopo un meno 5%. Si può ragionare sia dal punto di vista tecnico ma sia anche dal punto di vista del cut report banalmente che cosa faccio in queste condizioni qua. Quando vedo un cambiamento così forte è raro e difficile che non ci sia un ritracciamento, che non ci sia un ritorno quanto minimo a un ritest perché un 5% su un cambio valutario dove ogni contratto vale 100.000 unità. De sottostante fare un 5% per un fondo di investimento per un istituzionale è tanto, non è poco. Soprattutto anche perché poi stiamo parlando di leve finanziarie di 1 a 30 sul Forex. Quindi vedere un movimento del 5% in pochi giorni lascia anche spazio a prendere profitto in maniera molto rapida e se da una parte si prende profitto ovviamente si chiudono posizionamenti short su USDJPY che ovviamente rimbalza e si ha il cosiddetto ritracciamento. Quindi cosa potrei andare a vedere nei prossimi giorni? Mi posso aspettare un ritracciamento. Come base partirei sempre da USDJPY perché ovviamente è il cambio principale. Magari vedrei se dal circa meno 12% attuale dovesse ritornare magari al meno 8 o meno 9%. Allora lì effettivamente significa che stanno semplicemente prendendo profitto senza andare ovviamente oltre all'ultimo massimo fatto segnare qui. Soprattutto per quanto riguarda la parte delle average funds perché poi sono loro che muovono il prezzo un po' nel breve periodo. Quindi io andrei ad analizzare soprattutto le net position da questo punto di vista qui. Che poi tra l'altro se proprio dobbiamo dirla tutta. Noi la conferma operativa che questo sia effettivamente una inversione di tendenza sul cut report non ce l'abbiamo soltanto alla rottura di questo livello qui. Alla rottura del 23% dei posizionamenti net long di leverage funds. Rottura che ovviamente non è ancora avvenuta. Quindi mi aspetto che il prezzo possa scendere ulteriormente. Magari andare a prendere tutta questa zona qui di liquidità intorno ai 150 154 yen per dollaro e dal prezzo attuale siamo all'incirca un altro meno 2 meno 3 per cento più o meno. E poi da lì effettivamente andarsi a prendere i profitti significa chiudere la posizione e poi effettivamente andare un po' di ritracciamento. Dove potrebbe essere fatto il ritracciamento? La zona più importante secondo me è questa qui tra i 157,7 e i 156,155 yen per dollaro che poi è l'ultima zona di rottura, l'ultima zona di detesto e l'ultima zona di rotazione. Eccola qua. Zona rotazionale molto molto importante che durava addirittura dalla fine di aprile. Quindi questa secondo me è l'unica vera zona da prendere in considerazione per il retest. Ovviamente la dovete pensare come un muro. Che cosa significa? Che non è detto che ci vada dentro. Anzi è molto probabile che si fermi leggermente più sotto. E dove si può fermare? Si può fermare a 155,4. Più o meno proprio nella zona inferiore questa qua. Come andrei ad operare? Aspetterei. Vedrei un po' se ci sono dei movimenti. Sicuramente ci sarà alta volatilità sullo yen perché adesso tutti inizieranno ad accorgersi di questa cosa qui. Inizieranno ad andare fortemente short anche noi retail e proprio lì ovviamente verremo puniti poi dalle prese di profitto e dal ritorno poi in maniera molto molto forte su livelli leggermente più alti. Per quello che abbiamo appena visto non c'è dubbio che nei prossimi mesi lo yen ha altissime probabilità di rafforzarsi. Adesso però bisogna capire con quali valute confrontarlo per costruire un'operazione di trading statisticamente favorevole. In sostanza tutto quello che faremo è prendere la valuta più forte al momento, lo yen, accoppiandola con la valuta più debole al momento che in questo caso sono dollaro neozionandese e dollaro australiano. E tutto questo grazie al nostro indicatore Bids Forex Strength che ti mostrerò proprio adesso e ti dirò come poterlo ricevere gratuitamente. Andiamo a prenderci il cross valutare un po' più interessante quindi come si fa? Come sempre mi attivo il mio Bids Forex Strength che lo yen ci dice subito che è la valuta più forte al momento e ci dobbiamo andare a prendere le valute più deboli del momento ovviamente a livello giornaliero che è il time frame di riferimento che stiamo vedendo. Quali sono le valute più deboli? Sono o l'Audi o l'NZD, dollaro australiano e dollaro neozionandese che è una cosa abbastanza singolare totalmente in disaccordo con quello che avevamo detto fino a un mesetto fa fino a due mesi fa perché effettivamente NZD e dollaro australiano erano le valute più forti del momento. Cosa è successo? Perché è cambiata un po' la direzionalità? È cambiata essenzialmente perché purtroppo il rame sta scendendo. Viene prodotto in Australia, viene esportato in Australia, sono esportatori netti di rame quindi il PIL si basa quasi totalmente su un'esportazione di materie prime tra rame e ovviamente anche argento perché ci metto anche quello e se viene meno il prezzo del rame diminuiscono le margine, diminuiscono gli utili netti, diminuisce anche il PIL e diminuisce anche la forza della valuta di riferimento che appunto è il dollaro australiano e il dollaro neozionandese perché ovviamente vanno a braccetto. Quindi il mercato in questo momento qua sta scontando una non forza delle nazioni diciamo oceaniche. Questo video è un estratto dall'ultimo webinar sul Cot Report. Se vuoi partecipare al prossimo appuntamento di fine agosto troverai qui sotto in descrizione il link per poterti iscrivere. Inoltre l'indicatore che abbiamo appena utilizzato, il Bids Forex Strength, è offerto gratuitamente dal Broker Tribe a tutti gli utenti Prime Plus. Quindi se anche tu a colpo d'occhio vuoi sapere qual è la valuta più forte del momento, tutto quello che devi fare è avere un conto Prime Plus con il broker thrive.com.it. Aprire un conto di trading è semplicissimo e ti daremo passo passo tutta l'assistenza del caso, dall'apertura del conto alla prima operazione in piattaforma. Per contattarci e ricevere assistenza puoi inviare una mail a info-investire.biz o in alternativa contattarci tramite la chat del sito. Come sempre trovi tutti i link qui sotto in descrizione. Ma adesso procediamo pure con l'ultima parte del video. Andate a prendere Audi JPY e Nvidia JPY e vediamo un po' quello più interessante. Questo è il dollaro neozolandese e questo è il dollaro australiano. Dice Claudio io cercherei il raggiungimento dei vecchi supporti. I vecchi supporti purtroppo l'hai raggiunti e questo è il problema. Il problema è che siamo in una situazione parecchio ribassista perché in tre sole settimane abbiamo perso circa il 9% sull'Audi e circa il 9% anche sull'NZD quindi sono a pari passo come debolezza. Però entrambe hanno raggiunto dei supporti significativi. Quindi qua la situazione si fa difficile. Perciò vi dicevo abbiamo secondo me tutto il tempo di aspettare il ritracciamento. Infatti secondo me non è un caso che qui l'Audi stia effettivamente ritracciando, che ieri sia iniziato questo rimbalzo con forza. Addirittura abbiamo rotto già delle strutture importanti che è appunto questa soglia dei 101,2. Quindi secondo me il margine operativo per un ritracciamento quanto minimo su queste valute qui, che poi sono anche quelle più debole, c'è. Io aspetterei un ritracciamento sia su UAD sia su NZD e magari mi faccio aiutare con il nostro BizProfile, quindi me lo attivo settimanale daily. Allora le zone più importanti sul dollarone zolandese sono questa, che è una zona intermedia, questa che poi è la zona di rottura che secondo me è quella più importante. E poi una zona più vicina, purtroppo ce ne sono due di zone, c'è questa e c'è anche questa qui. Su AUD sempre zona di rottura, la zona più importante in assoluto è questa qui. Poi le zone intermedie sono questa, questa e quella attuale. Attenzione che quella attuale secondo me è interessante per valutare effettivamente un rimbalzo. Quindi quello che stiamo vedendo è un ritorno di volume all'interno di questa zona qua. Quindi proprio dove il prezzo è attualmente sia su AUD sia su NZD, quindi intorno ai 100 su AUD e intorno ai 90 su NZD, entrambe le zone sono praticamente state rotte a ribasso, subito riassorbite. Adesso sta facendo il ritest del ritracciamento, quindi il ritest per la prosecuzione rialzista. Dove può finire questa prosecuzione rialzista? Le zone sono tre. Dalla più importante, che poi è anche la zona di rottura 105, da livelli attuali stiamo parlando di un più 4,8%, e poi abbiamo queste due zone intermedie, 103,2 e 104,2. Questo per quanto riguarda AUD, quindi dai livelli attuali stiamo parlando di ritracciamento del 2,7, del 3,8 fino a un 4,5-4,8% all'incirca, mentre per quanto riguarda l'NZD stiamo parlando del 2,5-2,6, del 3,6 e del 4,5-4,6. Quindi a livello percentuale è la stessa identica cosa, prendere uno o prendere l'altro, perché l'ho detto prima, si muovono praticamente a braccetto, avendo la stessa funzionalità e avendo quasi la stessa economia. Aspetterei un ritracciamento e, vedendo anche come si muovono un po' i mercati, secondo me la zona che dobbiamo valutare con più attenzione è questa qui. Perché questa qui? Perché c'è un enorme vuoto volumetrico che prima o poi deve essere ritestato, quindi almeno 92,5, quindi dai prezzi attuali, il ritracciamento del 2%, sia per quanto riguarda ovviamente l'NZD, sia per quanto riguarda AUD, qui si vede un po' meno il vuoto volumetrico, quindi secondo me l'NZD ci può dare più conferme operativi da questo punto di vista qua. Questo è il cardine, 95-94,5 è il livello cardine oltre al quale mi andrei a piazzare il mio stop loss.